Uno anche tra Cagliari e Genoa con i gol concentrati negli ultimi due minuti della partita. Al 45esimo della ripresa Muzzi viene fermato in area da Marrocco. L'arbitro Pairetto fischia il calcio di rigore. Muzzi batte Doardo segnando l'undicesima rete stagionale. Al 47esimo il pareggio del Genoa. Angolo dalla destra, Morello risolve una mischia nell'area cagliaritana superando Scarpi. Il Torino...